Una giornata di successo ed emozioni, Taranto si è lasciata conquistare dagli sport del mare, che dovrebbero rappresentare la sua naturale vocazione. Merito della giornata nazionale dello sport, organizzata dal CONI, a Taranto, su impulso dell'assessorato allo sport del comune di Taranto, la domenica è stata dedicata alle discipline acquatiche. Dalle 9 alle 13 e dalle 15 e 30 all'imbrunire, lungo il canale navigabile e presso la Lega Navale, la piscina Mediterraneo Village, il Palio di Taranto, Corso ai Due Mari e il Molo Sant'Eligio, è stato possibile assistere e partecipare a dimostrazioni degli sport acquatici. I cittadini hanno potuto ammirare lo spettacolo di canoa, vela, voga, kitesurf, flyboard, pallanuoto e nuoto. Presso la discesa Vasto, insieme, sono stati posizionati stand promozionali ed enogastronomici. Il coordinamento delle attività delle associazioni sportive dilettantistiche del mare è stato promosso dall'assessore allo sport del comune di Taranto, Francesco Cosa, che abbiamo ascoltato. Abbiamo esaltato quella che è l'elemento principale della nostra città, la città dei Due Mari. Oggi c'è stata una vera e propria parata in quello che è il nostro punto più bello, il canale navigabile, con il Ponte Girevole, il Castello Aragonese, le statue dei marinai, i turisti e i cittadini di Taranto hanno potuto ammirare questi eventi sportivi acquatici, il flyboard, piuttosto che i vogatori, piuttosto che il kitesurf, la canoa, la voga e anche la vela. Davvero un successo, un successo strepitoso da ripetere. C'è stato un grossissimo applauso che proveniva da un palcoscenico naturale, che è quello di Corso Due Mari, dove i cittadini hanno potuto ammirare e valorizzare ancora una volta la bellezza della nostra città. Nel corso della giornata la Proloco di Taranto ha svolto gratuitamente l'attività di punto informativo per visitatori e turisti. La giornata nazionale di sport, giunta alla tredicesima edizione, si è svolta ieri a Taranto, Castellaneta, Faggiano, La Terza e Montemesola. Il 2 giugno è in programma a Montegliasi e il 5 giugno a Martina, Pulsano e San Marzano di San Giuseppe.